Non è allo studio la riconversione a gas delle centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi ad annunciarlo l'amministratore delegato di Enel, Fabio Cattaneo, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo piano industriale, confermando anche la chiusura nel 2027 di tutte le centrali a carbone e del 2025 di quelle in Italia. Esclusa quindi la centrale a carbone di Cerano, con la preoccupazione dei sindacati, che non escludono la mobilitazione, ma anche del mondo politico, con una dura presa di posizione, il commissario regionale di Forza Italia, l'onorevole Mauro Dattis. Manca un piano industriale, è un piano di buone intenzioni che vorrebbe interpretare la fase di transizione ecologica e di transizione energetica, però mi pare che per Brindisi non ci sia ancora chiarezza. Brindisi ha dato tanto al potenziale energetico del paese, ha dato tanto dal punto di vista anche industriale della stessa produzione energetica di Enel e quindi le idee devono essere chiare. Per questo ho detto, non escludo iniziative anche delle autorità locali, a conoscenza dal sindaco, rispetto alla posizione attuale di Enel sul territorio. Insomma, ci sono una serie di questioni sulle quali ho detto alt, non si può giocare più, sono stato in silenzio fino adesso, ma non si può giocare più, adesso vediamo quali sono le carte sul tavolo e soprattutto ovviamente ho detto che responsabilmente chiedo che il governo intervenga.